E allora riperiani siete pronti a questo video? Secondo me non siete pronti. Ognuno dice la sua sull'audio d'alta definizione, quindi audio d'alta definizione si intende tutto quello che è sopra i 48.000 Hz di campionamento 24 bit, quindi 88.2, 96, 199. Ognuno dice la sua, io in questo video voglio mettere giù un po' di fatti e soprattutto un po' di prove, ok? Ok, tiriamo delle sinusoidi, le facciamo passare attraverso XY, vediamo chi arriva dove, mettiamo dei microfoni davanti alle casse, vediamo fin dove arrivano, ma tutto questo discorso parte da una cosa molto seria, che è quella che l'orecchio umano sente da 20 a 20.000 Hz, punto. Questa qua è la difesa, diciamo, di quelli che dicono che il 44.100 va bene, addio e non c'è bisogno di niente di più. Il problema è che non è vero e non è che non lo dico io, vi linko qua sotto dei paper di ricerca, ok? Questi sono scienziati che fanno gli esperimenti sulle persone, gli strappano lo scalpo, mettono dentro i sensori e fanno ascoltare la gente le robe ad alta risoluzione per vedere come risponde il flusso del sangue all'interno del cervello a seconda se ci sono componenti ad alta frequenza o meno, per alta frequenza intendo le 20.000 Hz in su. La Cristo di Università di Hiroshima ha comprovato che se ascoltati da soli, quindi se ti faccio sentire dei suoni a 30.000 Hz il tuo cervello se ne fotte, ma se accompagnati da componenti a bassa frequenza, quindi tra i 20.000 Hz, il cervello risponde diversamente, in un tempo diverso, ok? Non è che risponde subito. Questa è la prima roba, ci vogliono 10 secondi di ascolto. C'è lì ai 10 secondi per ascoltare una canzone? Puttana merda, spero di sì. Quindi è stato provato scientificamente che l'ascolto di lunga durata, quindi sopra i 10 secondi, con componenti ad alta frequenza, fa lavorare il cervello in modo diverso, ok? Quindi è, diciamo che non senti quelle frequenze ma le percepisci, questa qua è la cosa fondamentale. Ora, se non vuoi fidarti dalle papers scientifiche che ci sono in giro sulla rete, fai il terrapiattista, non me ne frega un cazzo, chiudi il video e non c'è più niente per te. Se sei convinto che l'orecchio, ah sì perché il martelletto è 20-20, vai pure fuori dai coglioni. Se ti fidi degli scienziati, perché per pubblicare quelle non è che uno prende pubblica, la gente magari non sa cosa c'è dietro la pubblicazione di una paper universitario. Io purtroppo lo so perché vedo quanta cazzo di fatica sta facendo mia sorella a pubblicare una cazzo di ricerca sui recettori del GABA, ok? E' il motivo per cui sono così appassionato a questa cosa, perché vedo in prima persona quanto è difficile pubblicare, perché te fanno il culo, perché ci sono i reviewer che ti guardano se hai fatto bene il lavoro e poi ci potrebbe essere un altro che ha fatto gli altri esperimenti che ti dice, eh no il cazzo, a me quei dati lì non escono. Quindi sono dati che sono stati provati e sono stati pubblicati, ok? Quindi, e soprattutto se guardi sotto in fondo c'è la dichiarazione firmata di tutti che non sono stati pagati da compagnie che, tipo Meridian Audio, tipo gente che fa DAC ad alta frequenza, quindi sono imparziali. Ora, anche qui, terapiatisti, volete o no, è tutto marketing, è tutto marketing, i dati scientifici ci sono e ve li linko qua sotto. Ah no, cazzo, non posso toccarmi gli occhi con le dita, merda, ho preso il coronavirus, vedi, poi mi nervosisco. Quindi, una volta partito da questa cosa ci sono degli altri problemi, tipo, vi diranno, le console non vanno sopra i 20.000 Hz, puttanata. Tipo i NIV nel 1977 arrivavano a 100k, 100kHz, 100, 100, ok? Ma vi faremo vedere che anche le schede audio del merda ci arrivano in alto. Adesso te le faccio vedere che il tape di registrazione della musica analogica non va sopra i 20.000 Hz. Ti farò sentire come una musicassetta va sopra i 20.000 Hz tra 10 minuti. Stai qui qua nel video, non ti preoccupare. Il fatto che le tue casse non possono riprodurre quelle frequenze, ti farò sentire con un microfono Behringer de merda, che appena lo trovo, Behringer, a me, con questo microfono che sembra una supposta, ok? Che loro nelle specifiche dicono 20-20, vi darò la dimostrazione che messo davanti alle casse mie della lesis de merda, vanno oltre 20.000 Hz. Se e solo se usi la frequenza di campionamento più alta. Perché se no c'è Shannon, c'è Nyquist, ok? C'è la matematica che ti dice che non ci puoi andare per ragioni matematiche di filtro anti-aliasing. Ora, abbiamo già fatto questo discorso sulla distorsione e la creazione di armoniche superiori, ma non è qua che si ferma il discorso. Ci sono strumenti musicali, anzi, quasi tutti gli strumenti musicali hanno componenti ad alta frequenza, ok? E i microfoni che usiamo hanno capacità di andare ad alta frequenza, perché se lo fa sto Behringer de merda, ok? Cosa farà un U87? Chi lo sa. Ma soprattutto, perché la gente dice che i vinili si sentono meglio? Che le musica 7 si sentono meglio? Non è la questione analogica e digitale. A mia speculazione puramente personale, poi siamo aperti al dialogo qua sotto nei commenti quanto volete, una parte della componente del fatto che il suono del vinile ci piace è perché contiene appunto queste componenti ad alta frequenza. Che non siano effettivamente né il groove del vinile, ma che siano generati dal RIA e dalla preamplificazione poi di tutta la catena del tuo impianto. Vuoi che non vuoi, ci sono delle componenti ad alta frequenza, vere o finte, quindi ritmi che non è proprio rumore perché si muovono con la musica. Quindi anche se fosse solo distorsione armonica, c'è e si muove con la musica. Questa componente ad alta frequenza, secondo gli studi che vi dicevo appunto all'inizio video, sembrerebbe, perché sono studi comunque moderni, non lo sappiamo ancora bene, però sembrerebbe che faccia sembrare tutti gli strumenti invece in zona ascoltabile, quindi che ascoltiamo dalle orecchie, più realistici. Perché nel mondo reale non c'è un bandpass, non c'è un passabasso nel mondo reale. Noi sperimentiamo tutti i suoni che ci arrivano addosso in una parte di frequenza con le orecchie, il resto con il corpo. Ad esempio, quelli che dicono che sotto i 20 Hz l'uomo non sente, certo non sente dalle orecchie, ma se ti sparo un 15 Hz e te tremi tu, cioè lo senti nel petto, che è quello che senti nei concerti live delle DM. Ok? Nei grandi stage senti lo spostamento fisico dell'aria dei 60 milioni di subwoofer che ha montato Deadmau5 per il suo concerto. E lì 15 Hz, sono sicuro che se ti metti lì con uno strumentino in misura, ci sono e come, e ti posso assicurare che tutti i partecipanti al concerto li sentono. Ora che state tutti incazzati, che me volete tirar le pietre, andiamo a sentirlo, andiamo a vederlo, andiamo a vedere cosa succede. Lo vediamo, lo capiamo, e poi sarai tu a decidere se vuoi tenere il tuo audio a 44 e 100, se vuoi salire a 48, che ti faccio vedere perché è un'ottima idea salire a 48, perché con pochissima spesa in più di processore hai un risultato molto più piacevole, oppure se avventurarti nel magico mondo del campionamento ad alta frequenza, quindi 96 kHz o 192. Detto questo, è chiaro che c'è una grossa componente poi pratica a questo discorso. Non sto dicendo a tutti di piantarsi a 192, perché anch'io ritengo 192 eccessivo. Non ti sto dicendo di metterti a 96 per far qualsiasi cosa, ma per alcuni tipi di progetti, secondo me, l'alta frequenza ha ancora un grande perché. Andiamo a vedere. Ok, andiamo a fare un po' di prove tecniche. State ascoltando tutto l'audio che sentiremo attraverso uno zoom, quindi sto registrando l'uscita, ok, line, del mio controller casse, perché non ho modo di registrare in digitale ad alta frequenza, che su YouTube non è supportata. Abbiamo un file a 176,4 kHz di un quartetto jazz. Ok, possiamo vedere con l'analizzatore di spettro. Questi sono i 20 kHz, questa è la linea del 20 kHz. Questa è tutta l'informazione in più. Qui abbiamo il file a 44, che ha il suo analizzatore di spettro. Vedete che è stato tutto tagliato, causa la frequenza di Shannon Nyquist. Ok, quindi abbiamo una differenza. Fino qua, tutto normale. Ci siamo. La prova è questa qua, perché alcuni sostengono che tutto il contenuto che c'è sopra il 20 kHz sia rumore. Quindi se io faccio un passa alto, low cut, slope 120, e lo metto a 20 kHz, andiamo a verificarlo col frequency spectrum. Spegniamo il 44 a 100. Diamogli un po' di gain. Ok? In modo che possiamo andare a tagliare in modo preciso. Ok, quindi non c'è niente. Vedete? Sotto i 20 kHz. Ok? Vado ad applicare questo effetto alla take. Quindi vado praticamente a passaltare tutto quello che c'è sopra i 20 kHz. Queste sono cose non udibili, ma a mio avviso percepibili da chiunque. E adesso vi darò la dimostrazione. Quindi questo qui è quello che abbiamo, se normalizziamo. Questo è quello che c'è sopra i 20 kHz. Come facciamo a capire se è musica o meno? Quindi togliamo i nostri passi alto. Andiamo a rallentare il file a 0.25. Quindi sarà un quarto della sua velocità, senza preservare il pitch. Quindi pitchiamo in giù il contenuto ad alta frequenza per vedere se è rumore o se è musica. Questi sono i transienti della batteria. E qui è dove posso capire il motivo per il cui il 192 è inutile. Perché come vedete dovete sempre fare per 4. Quindi questo 10 kHz in realtà sono 40.000 Hz. Ok? Qua sopra è effettivamente tutto rumore. Non c'è niente. Ma secondo me in questa zona in cui dai 20.000 ai 30.000 questi qui a casa mia fa parte della musica. Tutti questi contenuti sentite di questi microtransienti sono quelli che secondo me stiamo perdendo nell'ascolto moderno digitale a bassa risoluzione. Detto questo voi mi direte delle cose giuste tipo i microfoni da studio non registrano sopra i 20k le tape da studio non registrano sopra i 20k le casse che ho qua davanti non sento sopra i 20k proviamo il contrario. Innanzitutto verifichiamo che con la nostra scheda a 192 kHz se generiamo una sinusoide questo qua è il mio generatore vedete che sto generando frequenze dai 10, 20, 30, 40 e passa. Detto questo può la mia scheda audio riprodurli e catturarli? Mettiamo un rea insert rea insert quindi andiamo a metterlo prima dell'analizzatore di spettro andiamo a uscire dalla 3 ed entrare dalla 1 se non la clippiamo è meglio vediamo di non clipparla ed ecco qua che io sto uscendo dal line 3 della mia scheda ed entrando nel line 1 e ho tutte le mie frequenze ben sopra i 20k questo qui è 20k qui le potete sentire ok non c'è trucco non c'è inganno posso salire tranquillamente fino a 80kHz senza attenuazioni è assolutamente lineare facciamo un'altra prova facciamo una prova di questo tipo al posto che uscire e entrare dalla scheda audio esco e entro in una mangia cassette per simulare una roba consumer de merda ok quindi al posto del line 3 vado fuori nel line 4 e vado a pescare l'ingresso 2 quindi in questo momento ho semplicemente i cavi di merda quindi sto passando anche da degli rca con l'off jack attaccato una schifezza quindi sto passando sto uscendo dall'ia 4 sto entrando in una piastra della sony tre testine dolbs è abbastanza normale e questa mi è capace di magari se non clic è meglio ok ci sono ovviamente delle armoniche generate come potete vedere e purtroppo penso sentire quindi c'è uno stadio di saturazione ma come potete vedere sono a 30k 40k 50k 60 diciamo che a 60 75000 hertz scende però a 30 c'è c'è una strana flessione qui attorno al 25 che non so che cosa sia in questa apparecchiatura c'è una flessione qua sopra vedete poi risale qui magari c'è qualche circuito penso del dolbs immagino per voi ora però sto passando nella semplicemente nella piastra ma non nel nastro entriamo nel nastro sul tape vado a vedere riattivando il gain vedete che la sinusoide fluttua perché passa trasso il tape così non passa ve lo faccio sentire così è senza tape così è con il tape vediamo fin dove si spinge una musica setta non un tape da studio 20k 25k 30k 35k 40k e poi muore c'è sempre questa inflessione a 25 tra i 25 e i 30 però poi ai 30 e 40 c'è comunque vedete materiale ora i più cattivi di voi diranno ma no Francesco è il cross talk dell'ingresso con l'uscita va bene registriamo io sto registrando la musica setta sono a 38 e 14 quindi partiamo da 20k e saliamo quindi abbiamo fatto il nostro sweep stop 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 la cassetta vado indietro faccio play e mi metto in registrazione no perché poi la gente sai com'è mi metto in listen metto sopra un analizzatore di spettro questo qua è il mio nuovo analizzatore di spettro del tape mutiamo le nostre e qua abbiamo sto sentendo dall'uno scusate sono un gridino vedete che il mio tape ha registrato le aspettiamo eccole qua mia sinusoid poi sono salito quindi non era cross talk ma era proprio il tape che può salire 30 diciamo che a 35 35000 muore ma c'è molta roba tra i 20 e i 30k e questo qui signori è un tape di merda è una musica setta ma io ve la tiro anche fuori è una musica setta della maxel da 90 minuti del cazzo immaginatevi cosa potevano fare i i tape da studio degli anni 80 degli anni 70 non era roba che moriva a 20.000 hertz ok c'era c'era qualcosa che stiamo in digitale perdendo che altri test posso fare abbiamo una giustissima eh che cazzo ci mancherebbe mi dici Francesco ma le tue casse dalle tue casse non puoi sentire quelle frequenze quindi quando dici che la musica ad alta frequenza è più figa non non è vero ho qua il mio bellastone ok così contemporaneamente verifichiamo che anche quando registriamo possiamo registrare roba sopra i 20k visto che ci sono diversi paper scientifici che dicono che gli strumenti musicali hanno contenuti sopra i 20k li andiamo a registrare punto il mio microfono davanti alla mia cassa faccio partire il mio tone generation senza rea insert né niente quindi ho il mio tono teniamo magari questo qua di riferimento per vedere dove siamo ok entriamo nell'ingresso 1 mono like 1 attacchiamo il microfono perché poi dopo voi non ci credete che attacco le cose quindi vi faccio vedere che attacco il mic gli diamo la phantom ci parlo anche dentro ok così non mi stressate andiamo a sentire se le mie lesi schifose vanno ok perché magari non vanno chi lo sa quindi tengo giù il canale ma tengo aperto il frequency analyzer che è questo ok non c'è trucco non c'è inganno tone generation e andiamo a vedere tiriamo sul volume delle casse ovviamente e vediamo che se tiriamo su un po' il gain ah ah c'era proprio dietro scusate stavo giochinando dietro la mia faccia la vedete ovviamente c'è molta attenuazione ma è presente potete tra l'altro sentire voi in cuffia l'errore che c'è di intermodulazione che aumenta più salgo in alto più aumenta il rumore di fondo per voi questo è il problema dell'intermodulazione questo è quello che purtroppo sta campionando il sta campionando 4824 lo zoom e non la sta prendendo benissimo però anche le mie casse possono farlo anche l'acoustic make possono farlo proviamo subito magari se metto il microfono davanti alla cassa è meglio anche se non lo rompo guarda non sono neanche non sono neanche in fase col twitter però guardate questo acoustic make come sale fino potete vedere anche la mia voce quindi non c'è trucco non c'è inganno come sale tranquillamente fino a 40k quindi non si può dire che non ci sia roba ad esempio a 30k guardate qua come spunta ok quindi si sente non è che non si sente quindi se sentite differenze da un ires a un non ires non siete pazzi ma il vostro dispositivo può riprodurre questo tipo di frequenze giochiamo con le quadre giochiamo con le quadre va bene perché se vogliamo giocare con le quadre possiamo farlo al posto del tone generation mettiamo un rea synth facciamo un bel loop creiamo un bel midi e questo midi ci mettiamo una bella quadra ok e andiamo a vedere innanzitutto in frequenza ok questa quadra come si comporta non è una quadra finché non attivo lo score mix però una volta che l'ho attivato questa qua è la mia quadra che va su fino a 9 miliardi di hertz guardiamola con un oscilloscopio zoomiamo lo mettiamo in retrig e questa qua è la nostra bella quadra ok quadra 3k tutto a posto cosa succede quando andiamo a introdurre invece un campionamento più basso ok quindi cosa succede se entriamo e usciamo dalla scheda quindi vado a rimettermi il mio insert in line voilà ok quindi ora posso rimettere il mio rea insert che esce dalla linea 3 rientra dalla linea 1 ovviamente con meno gain ok quindi esco dal 4 rea insert lo mettiamo prima del frequency spectrum così vediamo che cosa combina la mia scheda audio eccola qua ok quindi questo è senza l'insert della mia scheda magari vi abbasso il master perché chi se ne frega e questo è con questo qui è il famoso pre-ringing cioè la limitazione in banda non può contenere le frequenze infinite che servono per ricreare una quadra e quindi le approssima in questo modo vedete che dopo un certo periodo di tempo il segnale si stabilizza per poi tornare a fare una quadra cosa succede se scendiamo a 4400 se scendiamo a 4400 questa qua è la nostra quadra come vedete il ringing è talmente severo da prolungarsi per la durata di tutta la parte diciamo stabile della quadra questo ovviamente è migliore e peggiora cambiando la frequenza della quadra quindi se scendiamo con la nota vedete che dopo un po' si stabilizza anche lui ma se non sono scemo questo è meglio di questo ok questo è il motivo dell'alta frequenza in questi casi ovviamente non dovete immaginarvi che l'audio esca così dalla vostra DAC viene interpolato in una sinusoide ok non viene non viene rappresentato a scalini gli scalini non esistono ok questo è un grosso errore c'è un video molto bello su questa cosa che ve lo linko qua sotto nei commenti che vi fa vedere con un oscilloscopio analogico cosa succede quando entri e esci da una DAC questa è una rappresentazione grafica di quello che succede lo possiamo vedere anche in un altro modo in realtà perché se noi stampiamo questo file quindi se togliamo il rea insert mettiamo solo il rea synth e stampiamo un wave a 192 192 l'ho stampato ovviamente col master a 0 perché sono uno scemo ok abbiamo la nostra quadra e lo stampiamo anche a 44 così almeno stiamo a posto andiamo a prendere i nostri file export 192 e 44 possiamo vedere meglio rappresentato cosa succede alle nostre segnali ai nostri segnali cioè come vengono rappresentati ovviamente qui non vedrete quei quei ripple che vedevate prima perché quei ripple vengono appunto introdotti dai filtri della vostra DAC quindi per rappresentare per Shannon e Nyquist correttamente questa figura d'onda come viene risolta in modi diversi il fatto che la vostra DAC risolve in modo diverso lo stesso materiale di partenza a seconda della frequenza di campionamento in cui è perché appunto spostandosi il filtro di anti-aliasing più in alto fa meno bordello volete vedere cosa fa un filtro anti-aliasing nella pratica basta guardare nella nostra quadra che stavamo facendo se andiamo a inserire un filtro di anti-aliasing quindi un passabasso quindi eye cut mettiamo un eye cut con uno slope da 120 lo mettiamo prima dell'oscilloscopio e questo è quello che fa un filtro di aliasing ok questo è molto estremo però vedete che si vanno a creare quei ripple perché io sto facendo un filtro anti-aliasing 20k non troppo ripple quindi vedete quanto possa essere severo mettiamo il pro q2 e facciamo un eye cut in modalità ripple non c'era proprio ripple come si faceva a fare ah così ok questo qui vedete che vado a simularvi praticamente il vostro il vostro filtro di anti-aliasing questo è a 30k immaginate cosa succede quando scendo a 21 o a 20 vedete che peggiora la situazione questo è quello che stiamo cercando di evitare lavorando ad alto sample rate quindi queste erano tutte le prove tecniche fisiche di che cosa succede se posso sentire la differenza cosa succede quando ha senso lavorare a poi dopo è una vostra religione io le prove tecniche ve le ho date il motivo storico per cui secondo me ci stiamo sconnettendo emotivamente dalla musica è secondo me in parte anche qua buona fortuna nei commenti ci sarà da redere bene questi qui erano i dati questo qui è quello che succede nelle cose ok prima di dire tutto è passa abbassato le DAC anche a 192 a 20.000 hertz si fermano non è vero ok questa è la dimostrazione non lo scrivono non so come mai ho scritto alla pollo per chiedergli ma se arrivate a 80 kilohertz perché scrivete 20 20 non vanno cagato chissà come mai immagino perché è un problema di pesamento perché se sono pesate probabilmente scende di più di 3db di attenuazione quindi loro non possono mettere le loro tabelline è merda però c'è roba c'è musica a mio avviso in quella parte di audio e se non è musica ed è solo rumore che però è sincrona al ritmo musicale della canzone secondo me può darci quell'illusione che manca nella musica di presenza io sto iniziando ultimamente a pensare che il distaccamento del pubblico dalla musica non solo sia dovuto a un impoverimento artistico della musica che è innegabile di questo periodo ma anche a la digitalizzazione della musica la digitalizzazione della musica non ha portato tutti questi benefici così positivi tanto che la cosa che mi ha fatto più strano è stato scoprire che negli anni 80 c'era una roba che si chiamava Inance sui convertitori DAC che infatti ho ritrovato qua non sono pazzo Nelle vecchie Behringer Ultramatch Pro c'è la possibilità di attivare l'Enfasis che è questo tastino che non si vedrà mai in telecamera perché negli anni 80 quando si stava appunto passando dall'analogico al digitale ci si rendeva a conto che mancava roba in alto soprattutto a 44.100 e c'era un high shelf praticamente sulla DAC quindi c'era un bit nel file che diceva alla DAC metti l'enfasi cioè vami a recuperare più informazioni possibili di alta frequenza per cercare di recuperare appunto queste sensazioni ed è il motivo per cui alcuni brani vecchi suonano strani mi capita spesso in radio dove sono state fatte delle digitalizzazioni strane a un certo punto appunto negli 80-90 in cui secondo me l'Enfasis è stato applicato in dischi in cui non doveva essere applicato o viceversa alcuni sono scuri alcuni sono chiari senza un grosso motivazione artistica a mio avviso e applicando questa curva di Enfasis che trovate online è reperibile alcuni di questi dischi si sistemano e diventano molto più piacevoli beh niente il mio rant di oggi è finito qua la cosa che volerei chiedere a qualcuno di voi è questa io non ho un piatto un vinile hi-fi buono c'è qualcuno tra di voi che ha un bel piatto che è disposto a farmi un campionamento di un vinile a 192 kilohertz per vedere fin dove arriva fin dove c'è segnale nel vinile sopra i 20.000 hertz perché ho trovato dei video su youtube dove mostrano che c'è ma lo fanno con schede audio molto vecchie e dopo nessuno ha più replicato questo questo esperimento quindi non so se è intermodulazione o semplicemente noise che si muove a tempo perché perché la come si chiamano le cartridge le le puntine hanno una frequenza di risonanza che le impedisce di andare ad alta frequenza quindi non ci puoi andare in teoria eppure quando poi li attacchi a un cavo e registri questi vinili ad alta frequenza c'è roba l'unica cosa però che vi chiedo è di mettere dei vinili di cui siete sicuri che la provenienza sia analogica quindi i famosi A-A-A analog sapete che ci sono perché se prendete un DA cioè che è una roba è un master digitale che è stato riconvertito in analogico siamo ancora da capo giusto per una questione storica per capire se è vero che abbiamo perso connessione con la musica perché mancano le alte frequenze o le altissime frequenze chi lo sa ed è una cosa che appunto volevo indagare perché sta diventando uno dei miei dubbi perché ok l'MP3 è stata una merda l'AC è a mio avviso ancora una merda da ascoltare è buono per le voci l'AC è perfetto per i podcast ma per la musica non è proprio il suo mestiere e quindi è questo che volevo chiederti perché se riesci ad andare in alta frequenza la mia piastra della Sony di merda ho paura che un vinile possa dare un risultato ancora maggiore e posso capire anche la frustrazione che possa essere se tutto sto ambaradando la musica a un certo punto sia crollato anche per colpa del cd cioè per colpa del digitale fatemi sapere sono apertissimo al dialogo per carità queste non sono assolutamente mie considerazioni completamente religiose sono prontissimo a cambiare idea e mangiarmi il cappello è che però davanti a questi risultati un po' il dubbio mi viene soprattutto con i fogli in mano che poi mi dicono che gli strumenti musicali hanno componenti ad alta frequenza e perché non li registriamo e un'ultima cosa se il campionamento è semplicemente un mezzo di trasmissione tra la parte che da analogico diventa digitale e la parte che da digitale diventa analogica cioè la nostra DAC perché accontentarci di un segnale che possiamo vedere anche graficamente viene modificato cerchiamo di rendere il più trasparente possibile questo canale ad esempio usando l'alta frequenza l'ultima cosa la grande bugia dei 24 bit allora 16 bit sono pochi e questo qua si sapeva da una vita il rumore di fondo è alto serve mettere il diter non riusciamo a riprodurre tutta la dinamica che l'orecchio potrebbe sentire detto questo 24 bit sono troppi cioè sono comodi perché sono tanti e quindi ne hai un po' da bruciare però gli ultimi 3 bit in basso anche 4 in realtà se li mangia il rumore di fondo praticamente della della circuitazione della vostra ADC o della vostra DAC a meno che non sia di altissima qualità ma se avete una scheda audio normale sappiate che gli ultimi 4 bit se li sta mangiando il rumore di fondo della scheda stessa quindi però è comodo avere da 16 a 20 già quei bit li sono in più tra l'altro ci sono le prime apparecchiature di registrazione digitale sul nastro audio ad esempio quello dell'ADAM che usavo da Colombo erano 20 bit non erano 24 bit perché ai tempi lo sapevano poi 24 bit era più comodo per tutta una serie di robe matematiche di programmazione quindi hanno fatto 24 bit perché 20 è un dito in culo matematicamente però sappiate che gli ultimi 4 se li buttano via che sono quelli che vengono sacrificati nel codec MQA che tutti dicono che è lossy ma in realtà è un lossless che sacrifica questi 4 bit dal 24 bit per nasconderci dentro l'estensione a 96k troppa roba ti fa mal la testa? c'è il coronavirus stai attento mi raccomando lavatevi le mani puttana merda mi incazzo lavatevi le mani dobbiamo far vedere al mondo che l'Italia sa contenere una malattia grazie per la visione Grazie a tutti